Sarebbe stato un tragico incidente, non un attentato terroristico, quanto avvenuto ieri a Waukeesia nel Wisconsin dove un SUV è piombato su una parata prenatalizia causando cinque vittime e una quarantina di feriti tra cui molti bambini. Il guidatore, un 39enne di origini afroamericane con una lunga lista di reati alle spalle, era uscito dal carcere appena due giorni fa dietro il pagamento di 1000 dollari. L'uomo stava fuggendo dal luogo dove era avvenuto un accoltellamento ma è stato rintracciato ed arrestato. Grazie a tutti.